Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi qui a Firenze nella sua sede a settembre, nell'ultima seduta prima della pausa di agosto, quella del 30 luglio, sono stati approvati due atti molto importanti, atti di bilancio, la variazione del bilancio 2021 e ad essa collegato l'aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza regionale. Vedremo i numeri, ascolteremo i commenti, capiremo quelli che sono gli interventi più cospicui e rilevanti. Come abbiamo già detto sette giorni fa, la tanta attesa modifica ai criteri delle gradatorie per le case popolari è rinviata a settembre. La mediazione tra maggioranza e una parte dell'opposizione di centrodestra, Fratelli d'Italia, non è bastata. Troppi emendamenti della Lega verranno esaminati in seguito. Il futuro della Firenze-Pisa-Livorno, tra le strade più importanti della regione, è stato al centro di un ampio dibattito in Consiglio regionale ancora una volta nella seduta del 28 luglio, con gli interventi del presidente Gianni, dell'assessore Baccelli e di tutti i gruppi politici. Alla ripresa dell'attività sarà già entrata nel vivo la nuova campagna elettorale, quella per le comunali, del 3-4 ottobre anche in Toscana. Eppure sembra emergere un problema nuovo, non si trovano più i candidati o perlomeno è molto difficile trovarli. Se ne è discusso anche in Consiglio regionale. Dove si orientano queste risorse previste dai nuovi atti di bilancio, votati appunto a fine luglio? Facciamo chiarezza. Del documento di Economia e Finanza vengono aggiornati 18 progetti dei 24 complessivi. Si punta molto sulle politiche per la montagna e le aree interne, sulla cultura, sulla scuola, sulle imprese, sul lavoro, sulla digitalizzazione. Nella variazione di bilancio si interviene poi su alcune norme per il governo del territorio, sulla viabilità e non solo. L'Ansiglio regionale e le commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare la più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi. una misura che prevede dal punto di vista della spesa una compartecipazione imponente della regione toscana al cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria relativa appunto ai fondi FEASR, FEASR e FSE. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la regione toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia. Lo stesso Bugliani che guida la prima commissione del Consiglio regionale sottolinea un altro intervento di rilievo riguardo alle fiere che andranno sostenute per far ripartire tutto il settore. Ma a proposito di strade, tornando su questo punto così sentito dalla popolazione, ecco alcuni particolari. Dobbiamo annoverare un contributo importante che si dà alla provincia di Pistoia per il sostegno a un'opera di variante stradale che riguarda una strada provinciale per stornare il traffico dall'abitato di Ponte Nuovo. Dall'altra parte c'è un'altra misura imponente che va a beneficio della città metropolitana di Firenze per la strada provinciale di Legri. E poi abbiamo soprattutto il riferimento all'asse di aria Pisano. In realtà erano già stanziati 4 milioni di euro per il sistema aviario Pisano. C'è stata una rimodulazione di queste risorse che è andata da una parte nello spostamento di un'annualità nell'erogazione di queste risorse, sono andate al 2023, ma dall'altra c'è stato un incremento di queste risorse di oltre 2 milioni di euro. Quindi ad oggi lo stanziamento della Regione Toscana sul sistema aviario Pisano supera i 6 milioni e 100 mila euro. È positivo il giudizio anche dell'alto gruppo di maggioranza, quello di Italia Viva, che mette in evidenza alcuni settori di intervento che sono particolarmente significativi. Abbiamo fatto bene a forzare per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione e le relative variazioni e defre. Era doveroso perché i comuni aspettano risorse dalla Regione, le imprese le aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna. Tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità, penso a tante questioni importanti. Il bilancio è la cosa più importante, altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la candidarizzazione della versione di bilancio secondo me è stato positivo. Al voto la maggioranza dunque è compatta, anche le opposizioni però lo sono nel respingere questi atti, con una serie di considerazioni diverse da gruppo a gruppo, ma con un comune denominatore però. Ci sono stati pochi giorni per esaminare tutto il pacchetto di questi atti, troppo pochi secondo i capi gruppo di Lega e Fratelli d'Italia. Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato, che ha bisogno di un approfondimento sul territorio e anche tecnico, arrivi in fondo e ci si chieda di essere portato in aula cinque giorni dopo. Noi abbiamo vissuto questa settimana fitta di consigli, avevamo nel Consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno tra proposte di legge e proposte di risoluzioni. Quindi ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo. È stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nostra aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto parole al vento e anche malfatte, faccio un esempio su tutte, l'aspetto sanitario, che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove, sulla sanità se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della Regione Toscana, la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19, cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Su altri aspetti ci sono considerazioni veramente superficiali, il sistema della mobilità è demandato tutto a un'esaltazione della tramvia fiorentina come sistema di collegamento per l'intera area metropolitana. C'è sempre molta attesa su questi atti che hanno anche un indubbio valore politico per conoscere la posizione del Movimento 5 Stelle, ma qui in Consiglio regionale non c'è nessun avvicinamento alla maggioranza di centro-sinistra. Convintamente contrari perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso, proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. Chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un po' più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici, probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i PETS, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori straordinarie, in realtà ordinarie perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo. Anche Forza Italia dice no criticando fortemente l'impianto di questi atti di bilancio e l'impatto che determineranno, introducendo un elemento in più che crea polemiche e tensioni, quello dello sviluppo dell'aeroporto di Peretola. Non c'è niente che ci porti a votare a favore, non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della regione toscana. È una legge mancia, le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali, pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali, che per noi la cultura vale, sì è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della regione toscana. Mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra regione il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. Non c'è nessuna parola sullo sviluppo dell'infrastruttura più importante del nostro territorio. L'aeroporto di Firenze, anzi in quel documento economico e finanziario della regione toscana, l'aeroporto di Firenze viene quasi declassato, non viene assolutamente menzionato. L'ordine del giorno di stella alla fine viene emendato dal Partito Democratico e viene approvato a maggioranza. Si chiede, leggiamo testualmente, il potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, in particolare della nuova pista indispensabile al rilancio dello scalo fiorentino e dell'economia della Toscana in un'ottica di sistema aeroportuale toscano integrato con l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. 28 i voti favorevoli dai gruppi PD Italia Viva, Lega, Forza Italia e da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia che aveva annunciato libertà di scelta per i propri consiglieri. 4 i voti contrari dal Movimento 5 Stelle, dalla consigliera del PD Ilaria Bugetti e dal consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci. Non ha partecipato al voto, annunciandolo prima in aula, il consigliere PD Andrea Pieroni. Proprio lui, Pieroni, aveva commentato un atto votato appena pochi giorni prima, il rendiconto del 2020. Ascoltiamolo allora, insieme a lui, anche il presidente della commissione controllo di Fratelli d'Italia. Il dato è di un positivo per 97 milioni, un dato positivo che non si registrava da quasi 10 anni, quindi è un elemento anche gratificante, rassicurante rispetto ad un equilibrio finanziario è un pareggio di bilancio che la regione toscana mantiene. Ma se vogliamo anche dare una sottolineatura politica a questo rendiconto, andando oltre anche i meri dati contabili e di bilancio, vorrei dire che questo è avvenuto mantenendo inalterata la pressione fiscale. Quindi i toscani non hanno anche per il 2020 sopportato aumenti di imposte e tasse. C'è stato un incremento degli investimenti, c'è stata un'attenzione sulla gestione anche delle principali partite, quella del personale, ad esempio, quella patrimoniale. Sì, il rendiconto si è chiuso con un utile formale di 97 milioni, in realtà c'è un disavanzo complessivo di quasi 1 miliardo e 700 milioni, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma comunque, come ha ricordato anche la Corte dei Conti, nel giudizio di parifica, si tratta comunque di un disavanzo molto rilevante. La regione toscana ha problemi di organizzazione dal punto di vista del personale, ha problemi di trasparenza, ci ha detto la Corte dei Conti, anche dal punto di vista soprattutto della spesa sanitaria, con una moltiplicazione di capitoli che non consente di capire bene tutto il flusso di denaro, dove va e dove viene impiegato. Sono numeri importanti che la Commissione Controllo ha esaminato approfonditamente e nell'esprimere, a maggioranza naturalmente, parere favorevole, ha anche raccomandato al Presidente Gianni, che si è voluto tenere la delega al bilancio, di essere presente ai lavori delle commissioni, perché è opportuno fare anche delle valutazioni politiche su dove la regione deve andare, per leggere in retrospettiva i numeri, perché attraverso il controllo di gestione si può capire naturalmente l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa della regione. L'iter di questi atti di bilancio e dell'integrazione alla nota di aggiornamento del DEF regionale è stato molto veloce ed è soddisfatto di questo anche il Presidente dell'Assemblea, Antonio Mazzeo. Sì, sì, c'è stata una discussione seria, non era semplice, nel senso che abbiamo avuto così tanti atti in così poco tempo. Ho chiesto al Presidente Gianni, alla Giunta, di cercare anche nel futuro di farli arrivare un po' prima per permettere a tutti i colleghi di poter approfondire. Ci sono stati provvedimenti importanti, io penso alle risorse per i pezzi, i piani educativi zonali le aspettavano, i nostri comuni per poter partire. Insomma, è una variazione di bilancio importante e che porta tante risorse sui nostri territori. Sarà riesaminata a settembre la proposta di revisione dello Statuto regionale che introduce la figura del sottosegretario, come accade in altre regioni, e allarga anche l'ufficio di presidenza a costi invariati però per l'ente. E a settembre va a finire anche la legge nuova sulle case popolari, sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ci saranno nuovi criteri per le graduatorie, ma nell'ultima settimana, negli ultimi giorni, lo scontro politico è stato totale. È una legge attesa da tempo, anche dai comuni, che devono emanare i nuovi bandi. Proprio per questo la maggioranza aveva spinto la riforma e aveva chiesto che venisse votata entro agosto, con le modifiche ai criteri delle graduatorie. Per questo c'era stata anche un'intesa parziale, ma su un punto molto qualificante, tra PD e Fratelli d'Italia. La Lega però ha presentato centinaia di emendamenti, oltre 2.000, e la discussione è stata rinviata a settembre, così come il voto naturalmente, per verificarne l'ammissibilità. Io spero che questo tempo sia utile al Partito Democratico e alla maggioranza per valutare l'opportunità, che secondo noi diventa indispensabile, di inserire criteri che garantiscano le uguali opportunità a tutti i cittadini che fanno richieste e che hanno bisogno. Però quello che noi abbiamo letto in questi giorni sono anche le accuse da parte del Partito Democratico, che ci dice che abbiamo bloccato i bandi. Sono bugie. I bandi si possono fare, la nostra legge è vigente, non è impugnata, non è oggetto di sentenza, quindi tutti i comuni possono fare i bandi. Dirò di più, le graduatorie in essere possono scorrere, perché ovviamente finché non ci saranno le nuove graduatorie rimangono in essere quelle vigenti. Le case popolari possono essere assegnate, e spero che tutti i sindaci lo facciano, perché ci sono molte, troppe persone che aspettano da anni, se non da decenni. Questo istruzionismo che la Lega sta praticando per la modifica della legge 2, la legge toscana, che è una buona legge, che però va modificata sulla base della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, che ritiene alcune norme che prevedono la impossibilità di accesso alle gradatorie se non c'è una permanenza della residenza in Toscana, così come prevedeva la legge per più di 5 anni, come norme discriminatorie. La vicenda, lo dicevamo, ha sollevato tante polemiche e ha creato tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia, anche sui contenuti del nuovo testo. Ecco cosa vuole la Lega in due punti essenziali. C'è anche una terza richiesta in realtà, quella della premialità per la conoscenza dell'italiano. La cittadinanza di tre anni italiana e la residenza in Toscana di almeno un anno. Questo è uno degli emendamenti. Perché credo che sia giusto premiare chi è sul territorio, chi si trova in Toscana da così tanto tempo e che ha contribuito con le tasse in questi tre anni allo sviluppo della regione, o perlomeno ha contribuito economicamente a sostenere la regione. e credo che abbiano decisamente, siano meritevoli di essere considerati tali. La seconda è proprio il principio di uguaglianza. Il cittadino italiano è costretto a presentare tutta una serie di documenti, tra i quali anche le certificazioni fiscali e patrimoniali, cosa che invece, che allo straniero, questo non è, non allo straniero, l'estracomunitario, il comunitario sì. Ed ecco cosa invece aveva voluto il consigliere di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Sanità e Politiche Sociali. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto un lavoro importante in commissione, ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi, che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione. Quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante dove appunto la storicità della residenza è un criterio premiale, così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità, se non di più di chi vive qui da anni. Insomma, chiediamo ancora a Perlucci, vi ha stupito l'atteggiamento della Lega per cui adesso di fatto si è interrotto l'iter di approvazione della legge anche con le vostre modifiche? Ma più che dall'atteggiamento della Lega, dall'atteggiamento del Consiglio. Ripeto, non penso si sia fatto un buon servizio a quei cittadini che stanno attendendo i nuovi bandi per le case popolari e che invece dovranno attendere ancora dei mesi. Parla ancora di un'occasione persa il capogruppo del PD. Per la Toscana, gli alloggi popolari, il diritto alla casa è una priorità che noi abbiamo sempre cercato di rispettare e di affermare anche con atti concreti. Ricordo che nella scorsa legislatura sono stati investiti oltre 200 milioni per quanto riguarda questo settore per dare la risposta ai nostri cittadini. Anche il Movimento 5 Stelle era contrario al rinvio. Voleva che la legge venisse approvata prima possibile. La legge andava fatta perché si tratta di sanare oltre che una grave ingiustizia sociale anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato. Quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo. Quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra Regione. Ma questa riforma per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vi convinceva? Non particolarmente. Secondo noi doveva semplicemente essere cancellato il limite, il nodo dei cinque anni. Però sicuramente la legge sull'edilizia popolare potrebbe essere anche aggiustata in altri modi. Quindi ci riserviamo anche a settembre di proporre magari una proposta di legge da affiancarsi a questa. Altri due pareri su questo rinvio? Intanto quello del capogruppo di Italia Viva. Noi sosterremo il testo così come è perché comunque comprende anche delle nostre richieste quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra Regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno cinque anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione consentendo comunque a tutti di fare domanda dando un principio importante mantenendo un principio solidaristico importante cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno ma nel frattempo consentire magari anche la cosiddetta classe media di poter accedere e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. Il capogruppo di Forza Italia attacca sull'origine stessa di questa legge Siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani cioè a chi sta in questo paese da più di dieci anni abbiamo sempre fatto questa battaglia nei primi cento in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica 70 sono extracomunitari a maggior ragione in un momento difficile come questo dove c'è tutta una fascia grigia che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case e poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica che è un altro grandissimo tema che in questo paese, in regione toscana non viene affrontato non si costruiscono più case e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del piano nazionale di resilienza non c'è un euro per la costruzione di nuove case ogni volta che arriviamo qua a Firenze anche noi percorriamo la Firenze-Pisa-Livorno lo fanno naturalmente tutti i consiglieri che arrivano dalla costa al capoluogo e certamente il disagio è frequentissimo soprattutto in questo periodo della Firenze-Pisa-Livorno delle sue possibilità di sviluppo si è parlato molto in questi giorni se ne è parlato anche in consiglio regionale soffrono soprattutto i pendolari i lavoratori che si spostano da un capo all'altro della regione gli autotrasportatori in questo periodo anche i turisti si calcola che siano oltre 50.000 i veicoli in movimento su quella strada che ora potrebbe passare alla gestione di una nuova società che per il Presidente Gianni sarà una società in house Toscana Strade al di là del modello di gestione di avere una società in house che si occupa delle strade ciò che conterà sarà il livello e non solo la quantità ma anche la qualità degli investimenti come abbiamo visto di recente nel balletto tra le istituzioni è successo che un finanziamento importante che serviva a risolvere i problemi più urgenti della FIPL sia di fatto entrato definitivamente nelle casse della città metropolitana soltanto con l'atto dirigenziale ultimo del 13 luglio pensate e l'intervento in via d'urgenza non era stato consentito in un primo momento quindi è chiaro che gli enti locali erano norme stringenti forse la società nuova potrà essere una risposta dal punto di vista burocratico quello che è certo è che deve rimanere alta l'attenzione su un futuro di medio e lungo periodo per quella strada non soltanto volto a rappezzare di volta in volta e intervenire sulle urgenze sullo scenario futuro e su questa nuova società di gestione che cancellerebbe di fatto il ruolo che oggi è della città metropolitana di Firenze non ci sono veti insuperabili nel centro-destra allora noi siamo perplessi su questo tipo di strumento più che altro perché ancora non sappiamo tecnicamente se ci sono i presupposti per poterla fare e la grande incognita del finanziamento della società perché comunque sia una società deve essere capitalizzata capitalizzata non significa conferire solo l'infrastruttura significa anche mettere liquidità e la liquidità da qualche parte deve essere presa quindi su questo aspetto ci vuole assolutamente chiarezza io dico una cosa sulla questione toscana strade si è già espressa con forte perplessità anche la Corte dei Conti quindi non sappiamo quanto sia una strada effettivamente percorribile forse invece portare l'attenzione al MIT quindi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in modo molto più convinto appunto facendo un'arteria di carattere nazionale strategico forse potrebbe essere la soluzione le critiche del centro-destra riguardano però soprattutto il merito della questione la condizione di questa grande arteria stradale probabilmente la più importante infrastruttura vialia oggi in Toscana abbiamo parlato di conclusione di lavori per quanto riguarda la Firenze-Pisa-Livorno alla fine di settembre il che significa che tutta la stagione estiva è compromessa tra Firenze-Siena sull'autopale o addirittura otto mesi ancora di lavori sulla Siena-Grosseto anni perché ancora non è partita la gara d'appalto per i lavori di alcuni lotti quindi si parlano ancora di anni di attesa era stato proprio Torseglia ad introdurre il tema e a favorire la discussione con un documento presentato dal suo gruppo il no più convinto alla nuova società ora arriva però dal Movimento 5 Stelle per noi quello che è evidente è che ciò che manca alla FIPP lì che è sempre mancato è una progettazione di medio e lungo respiro e soprattutto soldi finanziamenti appurato che dal PNRR non si possono prendere e che i fondi della regione toscana non bastano l'unica cosa che si può fare è guardare al nuovo settennato dei fondi europei strutturali e al governo nazionale sicuramente creare più poltrone con un nuovo CDA non aumenterà i soldi che già ci sono piuttosto moltiplicherà le poltrone cosa che sembra essere uno degli interessi principali di questa giunta in questa fase iniziale in questo primo scorcio di legislatura interviene anche il consigliare di Forza Italia che riprende per criticarla l'ipotesi del pedaggio se verrà portato una nuova gabella per i toscani sia per le auto private o anche per i TIR ma perché penalizzare gli autotrasportatori che quella strada la fanno perché quella strada serve un distretto che per la nostra economia vale il 3% del PIL interno lordo della regione toscana che è il distretto conciario di Santa Croce un distretto fondamentale in termini economici e in termini occupazionali perché dobbiamo penalizzare le imprese che lavorano lì ecco perché diciamo no al pedaggio sulla società unica noi siamo disponibili a parlarne a fatto che non costi un euro in più per le tasche dei cittadini che non vi siano i consigli di amministrazione dove ci sono le poltrone e poi la domanda è perché fare una società in house oggi la provincia la gestisce in maniera diretta attraverso un bando non si capisce perché non lo possa fare la regione toscana siamo alla vigilia delle elezioni comunali che adesso è certo saranno il 3 e il 4 ottobre ma c'è un'incognita sempre più forte tra i partiti nelle comunità cittadine appare infatti più difficile soprattutto nelle città più piccole trovare chi ha la voglia e la forza di candidarsi nel consiglio regionale in questi giorni è stata approvata da tutti una mozione per valorizzare e rafforzare la figura del sindaco è stata proposta dal gruppo di Fratelli d'Italia tanti sono i PX primi cittadini che siedono all'interno di questa assise e la volontà è stata quella appunto di andare a sostegno anche degli amici del Lanci per poter inviare anche noi al Parlamento nazionale una richiesta di rivisitazione del testo unico degli enti locali e far sì che le responsabilità dei sindaci vengano definite al più presto in maniera più chiara non soltanto perché candidarsi a sindaco non rappresenti più un elemento ostativo ma sia invece un elemento di ricchezza della nostra classe dirigente nazionale serve riconoscimento economico coperture dal punto di vista assicurativo che siano in grado di dare serenità chiarezza nelle funzioni e ovviamente alcune mirate puntuali riforme che diano sia per il codice civile sia per il codice penale chiarezza e diano anche ai sindaci una serie di responsabilità che siano in grado di poter controllare direttamente altrimenti diventa una carneficina e questo non ce lo possiamo consentire perché ne vanno di mezzo le persone è sempre gravissimo ma ne va di mezzo la Repubblica e la sua forza democratica e con questo anche noi ci prendiamo una piccola pausa torniamo venerdì 10 settembre con una nuova puntata la 32esima del 2021 di Regionando su Telegram Ducato dopo il Tg del venerdì sera e poi per tutto il weekend successivo di Regionando